La neve è annunciata da giorni puntualmente arrivata, anche sull'ario. Da ieri sera i primi fiocchi e questa mattina il territorio si è svegliato con un paesaggio innevato. Disagi contenuti però, ed è facile immaginare che a Villa Saporiti oggi abbiano tirato un sospiro di sollievo. Nonostante il comunicato diffuso martedì dalla provincia di Como sull'impossibilità di garantire servizi di viabilità invernale a causa delle difficoltà economiche dell'ente, infatti, la salatura delle strade è stata garantita. Con il nostro comunicato, spiega il presidente Maria Rita Livio, abbiamo voluto segnalare responsabilmente le difficoltà a livello di bilancio. Ma non siamo irresponsabili, aggiunge il numero uno di Villa Saporiti, e siamo intervenuti con la salatura fondamentale per contrastare la formazione del ghiaccio. Diciamo che, continua Livio, se non nevicasse più o se le nevicate successive fossero come quella di stanotte, non avremmo problemi, in caso contrario invece avremmo grandi difficoltà. Un intervento di salatura sulle strade provinciali, in caso di perturbazioni di breve durata, costa 20.000 euro. Intervento che la provincia di Como può sostenere oggi solo grazie alle risorse accantonate nel 2014, visto che i fondi per il 2015 non ci sono, a causa dei tagli imposti dalla manovra finanziaria. In pratica, se dovessero verificarsi altre nevicate come quella di stanotte, Villa Saporiti avrebbe le risorse per altre 4-5 uscite al massimo, ma se la perturbazione fosse di maggiore entità e richiedesse più ore di lavoro, il costo salirebbe e per lente sarebbe difficile sostenere la spesa. In provincia, insomma, si naviga a vista, o meglio, si viaggia con prudenza. Gli esperti prevedono altre deboli nevicate per la prossima settimana, e in via Borgovico tutti sperano che siano gli ultimi fiocchi.